l'edizione straordinaria di quattro ruote coincide proprio con l'inizio dell'autunno e anche se oggi è una bellissima giornata la pioggia il fango possono rendere le strade molto scivolose mai come in questa stagione si desiderano le sport utility con le quattro ruote motrici e per non parlare delle solite SUV oggi facciamo conoscenza con una outsider ma di quelle con un marchio prestigioso però la Honda CR-V anche se in Italia non è che se ne vedano in giro moltissime la CR-V è da molti anni la più venduta delle crossover in America dove di queste auto se ne intendono anche più di noi e non perché la CR-V sia la più scattante o la migliore in fuoristrada ma per due qualità orientate a chi tiene famiglia lo spazio e il comfort e dunque diamole un'occhiata dentro non ci vuole molto per scoprire che questa è la miglior SUV in assoluto per lo sfruttamento dello spazio ce lo dicono molti dettagli il divano bello piatto che può far sedere tre persone comodamente ma anche il pavimento ben livellato non c'è traccia del tunnel centrale e lo spazio in altezza beh la forma della carrozzeria è un bel aiuto perché lascia tanta aria sopra la testa e quante volte avete litigato con il sistema di ribaltamento dei sedili posteriori la Honda ha una levetta magica guardate grazie a tutti beh certo che lo spazio non manca davvero anche la soglia di carico è bassa la più bassa di tutte nonostante qui sotto ci sia il differenziale i semi assi sì perché la Honda CR-V è una 4x4 in piena regola anche se il suo schema di trazione integrale non è fatto per i percorsi avventurosi probabilmente va bene per una sterrata in salita e sicuramente con le gomme adatte è ideale per la neve la sensazione di guida aiutata da una posizione alta è di buon controllo del mezzo persino di maggior compattezza rispetto alle dimensioni complessive i sistemi elettronici in questo caso sono solo due il classico ESP che interviene solo al momento necessario e riduce i rischi di sbandata e la frizione automatica e si chiude appena le ruote anteriori perdono grip per trasferire la forza motrice su quelle posteriori se questo succede vuol dire che ci troviamo sulla neve o sullo sterrato e che l'aderenza è bassa ci vuole prudenza e dolcezza nella guida ma per fortuna con le quattro ruote motrici inserite tutto diventa facile non chiedetele però di essere una fuoristrada vera perché questo è uno dei suoi limiti il sistema di trazione dei più semplici all'altezza da terra semplicemente non è all'altezza l'unico difetto è proprio questo ma guidando ci si accorge anche che la visibilità davanti e dietro non è proprio al cento per cento da questo specchietto per esempio vedo più l'interno della macchina che attraverso l'unotto e poi il montante anteriore e sinistra qui è un po troppo massiccio certe volte nasconde la visuale proprio nelle curve a sinistra non abbiamo ancora parlato del motore ma è il momento di farlo questo è il 2002 turbodiesel da 150 cavalli un po pochi rispetto alla cilindrata o se preferite è la cilindrata che eccessiva anche perché obbliga a pagare un'assicurazione più alta è molto regolare e progressivo sfrutta bene le marce dell'automatico che sono solo 5 non consuma nemmeno tanto se pensate che si deve tirare dietro quasi due tonnellate di macchina in media si fanno i 12 con un litro ci sono SUV più di moda altre che sono più veloci e altre ancora che sono più avventurose ma grande e spaziosa come la CR-V c'è solo lei ti fa sentire americano al cento per cento grazie a tutti Grazie a tutti.